Siamo molto contenti di questo perché è un segno di interesse per la nostra associazione ma è anche un viatico per il futuro. Tra un poco faremo un bufè qui, chi si vuole fermare con noi sarà ben accetto. C'è Giampaolo che dice qualcosa. Stretto dagli agendimenti formali non ho potuto fare quello che per me è importante fare. Come altri ringraziare Enzo non solo per la presidenza di oggi che mi sembra il meno ma per questi 20 anni nei quali l'arce è stata costruita è stata animata, ha saputo sviluppare innovazione, ha saputo sviluppare complicità e contiguità con tutte le proposte che dal territorio venivano e nel quale grazie a Enzo si è saputo mettere insieme proprio i due presupposti della nostra associazione la capacità di ricrearsi, cioè di crearsi di nuovo, di divertirsi facendo della cultura che da gioia e la capacità di fare cultura, di fare una cultura altra che è politica, che è trasformazione e, perdonate il termine, nei 20 anni di Enzo è stata il parte rivoluzionale. Grazie a tutti e buon appetito!